Si è pronto, Matteo Belluzzo, che è meggiato. Ossia 5, a nuovo Marseille, Jenkins, che è bravo il piano. Ossia 6, Antonio Moro, però con duoro. Ossia 7, Savone, Cettarelli, a 30, Venezia e Marathon. Ossia 8, Federico, Ungheri, a 3, 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 a 3. Grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.